Musica Regione Campania ha convocato il primo consiglio regionale lunedì 29 Musica Buonasera, ben trovati con questa nuova edizione dell'informazione di Uno News. Apriamo con la pagina politica e parliamo in primis della Regione Campania, a proclamazione degli eletti del consiglio regionale ufficializzato. E' stato anche convocato il primo consiglio regionale con il neoeletto, il presidente Vincenzo De Luca. Il consiglio regionale è previsto per lunedì 29 giugno presso il centro direzionale di Napoli, ma vediamo quali sono i nomi che siederanno in consiglio regionale per i prossimi cinque anni. E' stato convocato dal consigliere anziano Rosetta D'Amelio il primo consiglio regionale della Campania dopo l'elezione a governatore di Vincenzo De Luca. La convocazione è fissata per lunedì 29 giugno alle ore 10 presso il palazzo del consiglio del centro direzionale di Napoli. Nell'ambito di questo primo consiglio regionale è prevista l'elezione degli organi statutari e la presa d'atto dell'avvenuto insediamento del neoeletto presidente della regione Vincenzo De Luca. Dopo la proclamazione degli eletti da parte del Tribunale di Napoli è ufficialmente definita quindi la composizione del consiglio regionale con 50 consiglieri eletti. Per la maggioranza entrano in consiglio 15 nomi del PD. Tommaso Amabile, Enza Amato, Mario Casillo, Antonella Ciaramella, Rosetta D'Amelio, Gianluca Daniele, Bruna Fiola, Stefano Graziano, Antonio Marciano, Nicola Marrazzo, Mimmo Marta Ruolo, Gennaro Oliviero, Franco Picarone, Loredana Raia e Lello Topo. La lista di Luca presidente esprime quattro consiglieri che sono Luca Cascone, Carlo Iannace, Alfonso Longobardi e Pasquale De Pascale. Tre per Campania Libera, Luigi Bosco, Tommaso Casillo e Nello Fiore. Due invece consiglieri per Centro Democratico con Vincenzo Alaia e Giovanni Zannini e per l'Udc con Maurizio Petracca e Maria Ricchiuti. Un solo consigliere per le liste sempre in appoggio a De Luca, Campania in Rete, Alfonso Piscitelli, IDV, Franco Moxedano, PSI, Enzo Maraio e Verdi, Francesco Emilio Borrelli. Tra i banchi dell'opposizione, oltre a Stefano Caldoro, primo tra i non eletti dei candidati alla carica di presidente della regione, siederanno sette consiglieri per Forza Italia, risultato il partito con il maggior numero di consensi, con i consiglieri eletti che sono Flora Benaduce, Armando Cesaro, Maria Grazia Di Scala, Monica Paolino, Ermanno Russo, Michele Schiano Di Visconti e Giampiero Zinzi. Due invece consiglieri eletti nelle file di Fratelli d'Italia e Caldoro presidente, con rispettivamente Alberico Gambino e Luciano Passariello per la lista di Fratelli d'Italia e Massimo Grimaldi e Carmine Mocerino per Caldoro presidente. Per il nuovo centrodestra, schierato a sostegno di Stefano Caldoro, un solo seggio in seno al Consiglio, occupato da Pasquale Sommese. Ottima affermazione anche per il Movimento 5 Stelle, che per la prima volta porta una rappresentanza del gruppo in seno al Consiglio regionale, con sette consiglieri eletti. Oltre a Valeria Ciarambino, candidata alla presidenza della regione, a far parte del gruppo anche Michele Cammarano, Luigi Cirillo, Tommaso Malerba, Maria Muscara, Gennaro Saiello e infine Vincenzo Viglione. Il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, sarà sospeso. Lo annuncia il premier Matteo Renzi, che conferma la volontà del Consiglio dei Ministri di procedere con l'applicazione della legge Severino, ma spiega anche che si dovrà attendere il parere dell'Avvocatura di Stato per conoscere le modalità dell'applicazione e non mancano le reazioni da parte dei partiti opposti. Rispettare la legge e le procedure, così il premier Matteo Renzi in conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri ha tenuto a sottolineare la questione De Luca, definendo però il provvedimento inedito e la necessità di dover attendere il parere dell'Avvocatura di Stato per capire come la procedura della sospensione debba svolgersi. La legge Severino, che dal primo di questi mesi di giugno pende come una spada di Damocle sul neogovernatore Campano, potrebbe dunque avere ancora tempi di attesa prima che possa essere applicata. Il premier Renzi è stato chiaro, bisognerà attendere i pareri, riflettere e ragionare prima di sospendere De Luca, perché è la prima volta che si applica non già ad una figura istituzionale in carica, ma una figura istituzionale che deve essere proclamata e che deve entrare in carica. Ma intanto, completato l'iter della proclamazione di De Luca e dei consiglieri regionali, lunedì prossimo si insedia il nuovo Consiglio regionale convocato dal consigliere anziano Rosetta D'Amelio. Nella prima del 29 giugno, secondo statuto, dovrebbe essere eletto il Presidente del Consiglio, due Vicepresidenti, due segretari e due questori che costituiscono l'ufficio di Presidenza. Il Presidente De Luca, invece, nei dieci giorni successivi la sua proclamazione, già avvenuta la scorsa settimana, nomina nel rispetto del principio di equilibrio di donne e uomini la Giunta, tra i quali un Vicepresidente, sempre secondo lo statuto della Regione Campania, ne dà comunicazione al Consiglio regionale nella prima seduta successiva alla nomina per l'espressione del gradimento da parte del Consiglio. Queste le regole certe dello Statuto, tutto da verificare, invece, per quel che riguarda la sospensione, Renzi ha lasciato intendere che bisognerà attendere i pareri prima di poter procedere, quindi, salvo colpi di scena, il neo-governatore della Campania dovrebbe avere i tempi necessari per procedere alla nomina di Giunta e Vicepresidente chiamate ad esercitare i poteri in toto quando scatterà la sospensione. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha formalmente richiesto ai ministri competenti un parere, il parere reso necessario dalla legge Severino in ordine alla vicenda che riguarda il Presidente della Regione Campania. Il nostro intendimento procedere alla sospensione come previsto dalla legge Severino del Presidente della Regione Campania stiamo attendendo che i ministri competenti possano fare il parere e che l'Avvocatura dello Stato che in queste ore ci sta fornendo un parere ci spieghi come questa procedura si deve svolgere in considerazione di un fatto e cioè che è del tutto evidente che si tratti di un provvedimento inedito per la prima volta si deve applicare la legge Severino non già a una figura istituzionale che è in carica e che deve essere sospesa ma una figura istituzionale che deve essere proclamata e che deve entrare in carica a tutti gli effetti. Quindi abbiamo chiesto formalmente di conoscere qual è la procedura prevista e nelle prossime ore immaginiamo di procedere rispettando non soltanto la legge ma anche la procedura che ci verrà proposta dagli organi competenti. Come abbiamo visto la convocazione del Consiglio regionale ha portato con sé anche una serie di reazioni da parte di numerosi esponenti politici con il centrodestra e il Movimento 5 Stelle che hanno già annunciato il ricorso e che impugneranno gli atti della nomina della nuova giunta vista la sospensione per effetto della legge Severino pendente sul presidente Vincenzo De Luca. Angelo Tofalo di Movimento 5 Stelle attacca il premier Renzi dal suo profilo Facebook accusandolo di aver preso in giro 5 milioni di cittadini campani candidando quindi Vincenzo De Luca alla presidenza un candidato che incorre nella sospensione per effetto della legge Severino anche il nuovo centrodestra partito che governa il paese accanto a Renzi batte i pugni e di Severino Nappi la nota stampa che definisce illegittima e contro la legge anche la convocazione del Consiglio regionale che doveva essere effettuata da Vincenzo De Luca come consigliere più anziano che invece è stata demandata a Rosetta D'Amelio secondo consigliere anziano dichiarandosi sconcertato dalla quantità di atti illegali che si stanno producendo in questi giorni pur di consentire a De Luca di superare la sua condizione di condannato che non gli permette di governare la regione Campania ma cambiamo argomento resta confusione per il futuro dei dipendenti dell'area di servizio Ovest di Sala Consilina che questa mattina hanno assistito all'incontro tra il vecchio gestore dell'area di servizio ed il probabile nuovo gestore un incontro che sembra sia stato finalizzato solo a prendere coscienza della situazione dell'attività per ciò che riguarda invece il futuro dei dipendenti un breve cenno sulla possibile conferma dell'assunzione è arrivata solo a seguito della sollecitazione da parte dell'amministrazione comunale di Sala Consilina questa mattina un nuovo incontro per definire la situazione dei dipendenti dell'area di servizio Ovest di Sala Consilina attualmente ancora in presidio permanente i dipendenti vantano diverse mensilità retrate ma anche certezze per il futuro visto l'annunciato cambio di gestione dell'area di servizio l'incontro di questa mattina secondo quanto riferisce il rappresentante dei dipendenti Angelo Petrazzuolo si è svolto solo come sopralluogo per valutare le giacenze e la situazione totale dell'impianto ma nulla è stato definito in merito alla questione dei dipendenti con novità attese in settimana la situazione dei dipendenti infatti questa mattina non è stato punto essenziale di discussione che è stato trattato solo su sollecitazione dell'amministrazione comunale di Sala Consilina presente questa mattina con il sindaco Francesco Cavallone che ha chiesto rassicurazioni in merito allo stato dei dipendenti ed ha visto il possibile nuovo gestore garantirne la riassunzione nessun cenno invece sulla questione delle mensilità retrate il rappresentante dei dipendenti Angelo Petrazzuolo parla di novità ma non si mostra particolarmente soddisfatto dall'esito di questo incontro ma a dire la verità c'è stato un incontro con il futuro gestore il probabile futuro gestore e il vecchio gestore che poi alla fine sono venuti là solo per fare un bilancio e inventare il più che altro delle giacenze e della rimanenza nel base però alla fine non si è risolto niente siamo rimasti tutti come eravamo prima lui deve contattare di nuovo Leni, il probabile futuro gestore per vedere se rientra dei margini però non ha tirato la conclusione allora i problemi loro già li sanno sono quelli della mensilità e quelli dell'assunzione lui si è preso un impegno con l'amministrazione comunale che era tutta presente che dovrebbe assumerci tutti poi staremo a vedere quando sarà ufficiale la cosa se mantengono questo impegno no, no, tutto col vecchio gestore quindi ha detto che si risolve il problema con Leni risolve anche il problema nostro ed è stata rinviata l'udienza preliminare per il rinvio a giudizio delle persone coinvolte nella truffa ai danni dei risparmiatori dell'ufficio postale di Monte San Giacomo secondo l'accusa sei persone di cui in primis l'ex direttrice dell'ufficio postale avrebbero sottratto indebritamente oltre un milione di euro dai conti correnti postali dei risparmiatori per lo più anziani e residenti all'estero era prevista per oggi l'udienza preliminare per decidere sul rinvio a giudizio nei confronti di Lucia Darino l'ex direttrice dell'ufficio postale di Monte San Giacomo coinvolta nell'inchiesta della truffa ai danni dignari correntisti l'udienza in programma questa mattina presso il Tribunale di Lago Negro davanti al giudice per le udienze preliminari è stata però rinviata al 16 dicembre prossimo nulla di fatto quindi e ci sarà ancora da attendere per capire se e in quali proporzioni effettivamente è stato perpetrato il danno ad essere coinvolti nell'inchiesta oltre all'ex direttrice dell'ufficio postale Lucia Darino anche il marito e il figlio della stessa Mattia e Marcello Romanelli che secondo le accuse avrebbero utilizzato denaro di provenienza illecita nelle loro attività personali il primo per aver utilizzato proventi della truffa nella scuola calcio Gaetano Romanelli e il secondo Marcello Romanelli per l'utilizzo delle somme illecite in un suo negozio di articoli sportivi indagato anche il fratello della Darino, Remigio porta lettere dell'ufficio postale che si sarebbe appropriato di un assegno postale accuse gravi che hanno portato ad un'intensa indagine investigativa con attività eseguite dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina e dalla guardia di finanza di Sala Consilina per risalire alla verità sul caso che ha visto diversi correntisti per lo più anziani o residenti all'estero privati di somme di denaro versate sui propri conti correnti e che sembra siano state illecitamente e indebitamente sottratte senza che gli stessi titolari dei conti ne fossero a conoscenza una truffa che si pensa abbia fruttato agli indagati oltre un milione di euro in porto sottratto dai conti correnti dei risparmiatori nel periodo tra il 2005 e il 2013 questa mattina era in programma l'udienza per decidere se rinviare a giudizio o meno le persone coinvolte nella truffa ma la decisione è stata rinviata al prossimo 16 dicembre 2015 per un difetto di notifica Ancora cronaca i carabinieri della compagnia di Sapri hanno fermato un giovane di 24 anni in possesso di banconote false per un totale di quasi 2500 euro l'operazione condotta dalla stazione di marina di Camerota è scattata dopo la segnalazione di alcuni cittadini che avevano denunciato la presenza di banconote false in circolazione dopo giorni di accertamento i militari hanno fermato il giovane che aveva in tasca 20 euro falsa e a seguito di perquisizione all'interno della sua abitazione sono state rinvenute banconote false per un totale di circa 2500 euro le banconote sono state sequestrate e il giovane è agli arresti domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria mentre si indaga per verificare la provenienza delle banconote false andiamo avanti Lucio Caruccio autotrasportatore di Olevano sul Tusciano è tornato ad incatenarsi davanti al tribunale di Salerno Caruccio si sente vittima di un caso di mala giustizia nel 2012 cercò addirittura di darsi fuoco per protestare contro le lungaggini della causa intenta contro l'azienda che lo aveva licenziato è tornato ad incatenarsi davanti al tribunale di Salerno sul corso Vittorio Emanuele conquistando la curiosità dei tanti passanti Lucio Caruccio autotrasportatore di Olevano sul Tusciano che si definisce vittima di un caso di mala giustizia è già protagonista di diverse proteste come quella nel 2012 quando tentò di darsi fuoco davanti alla prefettura l'inizio della sua storia risale al 2004 quando Caruccio che con i suoi camion effettuava viaggi per conto di un'altra ditta inizia a protestare per l'entità dei compensi che a sue dire non rispettavano i tariffe stabilite dal Ministero dei Trasporti nel 2005 gli arriva la lettera di licenziamento in cui lo si accusa di aver rifiutato alcuni incarichi l'uomo per protestare contro le lungaggini della causa intentata contro l'azienda che lo aveva licenziato nel 2012 già si è incatenato davanti alla sede del Palazzo di Giustizia di Salerno perché sostiene che la sua condanna è dovuta a false testimonianze rese da esponenti di un clan le prove false testimonianze sono provate e documentate nei documenti che erano legati agli atti nel processo civile le famiglie che controllano il trasporto vettore non avendo nessuna prova di quanto riportata nella lettera di licenziamento si rivolsero a questo si rivolsero chiesero la prova testimonianza di tutti i componenti del transorace coloro che gestivano il trasporto all'interno dell'azienda Automata S.P.A. di Ponte Cagnano Ma ci aiuti a capire perché lei sostiene che sono false queste testimonianze? Cosa dimostra che sono false? Solo lei che lo dice Allora qui c'è la sentenza posta dal giudice il giudice ha riportato sulla sentenza che io per ben tre mesi di fila mi sono rifiutato di effettuare i viaggi qualunque fosse la direzione io qui c'è una perizia del CTU nominata dal giudice che ha riportato in quattro pagine 26, 27 e 28 che io nel primo trimestre anno 2005 avevo effettuato 33.581 km Quale chiede di riaprire questo processo di rivedere Aspettate io ho fatto ricorso questo è un processo civile e ne ho fatto ricorso in appello solamente che ricorso in appello la prima udienza è saltata perché è sparito il fascicolo di primo grado questo fascicolo era chiuso in cassaforte non lo so come è fatto a sparire va bene Lo scorso 14 maggio è entrata in vigore la nuova legge anticorruzione in merito a questa nuova norma abbiamo ascoltato il procuratore della Repubblica del Tribunale di Lago Negro il dottor Vittorio Russo ospite dei nostri studi che ai microfoni di Pietro Cusati parla di una norma che contiene aspetti positivi ma anche qualche stridente contraddizione C'era sicuramente necessità di un intervento normativo per contrastare un fenomeno che purtroppo nel nostro paese sta diventando oltre che endemico anche pervasivo purtroppo dobbiamo noi come società civile fare i conti con una corruzione dilagante e quindi da questo punto di vista l'intervento del legislatore era sicuramente necessario ci sono delle positività nella normativa che è da poco entrata in vigore ma diciamo da tecnico poi del processo penale noto anche qualche stridente contraddizione per cui diciamo è una legge che dovrà vedersi poi nella sua applicazione concreta se riuscirà a porre un freno poi al fenomeno della corruzione che ormai ci sta attanagliando io sono molto molto fiducioso invece nell'opera che potrà svolgere che può svolgere che è in grado di svolgere il collega Cantone mio carissimo amico e persona che ritengo capace professionalmente di diciamo di svolgere una funzione di controllo sugli appalti sì l'auspicio che lo stesso Cantone ha invocato di una semplificazione poi delle leggi e del codice degli appalti viene preso sul serio dal dal legislatore con una normativa specifica poi che da un lato diciamo elimina una serie di pericolose contraddizioni di inutili di un inutile fardello poi di norme ridondanti e dall'altro poi delimita con precisione quali siano i comportamenti leciti e quelli non leciti poi dei pubblici amministratori forse la nuova norma le nuove norme sulla legge anticorruzione e il nuovo codice degli appalti che peraltro il governo e il Parlamento si sono impegnati poi a riformare post potrebbero consentire diciamo di dare una svolta a questa difficile situazione nella quale ci troviamo reati fiscali due arresti e 79 denunciati fino a maggio per l'usura per il reato di usura 27 le persone segnalate all'autorità giudiziaria e questo il bilancio dei primi cinque mesi del 2015 presentato dalla Guardia di Finanza di Salerno 81 le persone denunciate dalla Guardia di Finanza Salerno e Provincia nei primi cinque mesi del 2015 due di queste quelle arrestate perché ritenute responsabili di reati fiscali riguardanti gli illeciti di emissioni di fatture per operazioni inesistenti dichiarazione fraudolenta ed infedele occultamento di documentazione contabile sono i dati forniti dal Comando Provinciale di Salerno in occasione delle celebrazioni del 241esimo anniversario della Fondazione del Corpo scoperti in oltre 12 fracasi di frodi di carosello creazione di società cantiere o fantasma costituzione di crediti IVA fittizi e in debita compensazione nonché due casi di evasione internazionale individuati 51 lavoratori irregolari di cui 47 totalmente in nero nello stesso periodo sono state sequestrate disponibilità patrimoniali e finanziarie per il recupero delle imposte vase nei riguardi dei responsabili di frode fiscali per oltre 22,2 milioni di euro ed avanzate proposte di sequestro per oltre 21,5 milioni relativamente al settore della tutela della spesa pubblica che ha interessato i più importanti flussi di spesa dalla sanità alla previdenza ai fondi comunitari agli incentivi nazionali l'ammontare delle risorse pubbliche risultate indebitamente richieste o percepite da parte dei responsabili è stato di oltre 6,8 milioni di euro in materia di contrasto all'usura sono state segnalate all'autorità giudiziaria 27 persone di cui una tratta in arresto le attività volte alla repressione dei reati familiamentari hanno consentito la denuncia di 9 soggetti dei quali 2 arrestati nel settore della tutela della proprietà intellettuale sono stati sequestrati oltre 39 mila prodotti con marchi contraffatti recante falsa indicazione Made in Italy e non sicuri con la denuncia di 45 persone nei primi 5 mesi del 2015 le unità operative del corpo sono state destinatari di circa 800 deleghe di indagine da parte dell'autorità giudiziaria competente delle quali circa 630 concluse del totale delle deleghe pervenute il 9,1% ha interessato il comparto dei reati tributari con una forte incidenza per quelle connesse all'emissione e l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti inoltre 244 incarichi investigativi sono riferibili al settore della spesa pubblica ulteriori 100 hanno riguardato delitti di riciclaggio usura e contro il patrimonio ed altri 100 per reati societari e fallimentari nel quadro della collaborazione con l'autorità giudiziaria si collocano anche le 39 inchieste di accertamento formulate dalla Corte dei Conti in relazione ad ipotesi di danno erariale delle quali già 30 soddisfatte e ora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria riprenderemo tra pochissimo con il resto delle nostre notizie bentornate alla seconda parte del nostro Tg circa 200 milioni di persone che assumono almeno una volta all'anno droga con i giovani di età tra i 14 e i 30 anni che rappresentano le fasce più coinvolte in numero due volte maggiore rispetto alla popolazione generale per la prevenzione in termini di responsabilizzazione dei giovani e dei giovanissimi sia per prospettare ipotesi di uscita perché già coinvolto nella tragica esperienza della tossicodipendenza il comune di sala consiglina ha aderito alla giornata internazionale contro il consumo e il traffico di droga che si celebrerà il prossimo 26 giugno il comune di sala consiglina ha aderito alla giornata internazionale contro il consumo e il traffico e l'ecito di droga che si celebrerà il prossimo 26 giugno un appuntamento annuale in tutto il mondo per una giornata indetta nel 1987 dall'assemblea generale delle nazioni unite l'obiettivo di questa giornata è la sensibilizzazione sul problema mondiale della droga e ricordare che lo scopo comune a tutti gli stati membri dell'unione è dare vita ad una comunità internazionale libera dalla droga la campagna dell'ufficio delle nazioni unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine pone l'accento soprattutto sulle droghe poste sotto controllo internazionale riportate nei tre trattati multilaterali che costituiscono la spina dorsale del sistema internazionale di controllo della droga secondo le stime sono 200 i milioni di persone che hanno assunto droga almeno una volta in un anno di questi 25 milioni sono considerati tossicodipendenti ogni anno 200 mila persone muoiono per malattie correlate all'uso di stupefacenti le categorie più coinvolte sono i giovani di età compresa tra i 14 e i 30 anni che rappresentano il doppio delle persone implicate rispetto alla popolazione generale dietro queste cifre si cela un commercio illegale che fattura miliardi di euro in Italia le stime prudenziali del fatturato del mercato della droga si aggirano oggi sui 24 miliardi di euro annui per il comune di sala consiglina si legge nella nota la ricorrenza del 26 giugno è un'occasione rinunciabile sia per promuovere la prevenzione in termini di responsabilizzazione dei giovani e giovanissimi sia per prospettare ipotesi di uscita per chi è già coinvolto nella tragica esperienza della tossicodipendenza l'ente svilupperà in questa giornata il tema della giornata 2015 facciamo crescere le nostre vite le nostre comunità le nostre identità senza droga attraverso l'organizzazione di eventi e manifestazioni da tenere durante tutto l'anno della campagna mondiale to believe or not to believe è il titolo del progetto che vede dal 20 giugno al primo luglio 35 ragazzi provenienti dall'Italia e da altre quattro nazioni europee a Rofrano per sperimentare e condividere esperienze azioni e soluzioni sul tema dello sviluppo rurale i ragazzi al termine del loro percorso realizzeranno uno spettacolo che andrà in scena il 28 giugno 35 ragazzi provenienti da Albania Croazia Portogallo Serbia Italia si sono ritrovati a Rofrano per sperimentare e condividere esperienze azioni soluzioni sul tema dello sviluppo rurale si tratta dell'iniziativa dell'associazione Connect che porta avanti lo scambio culturale to believe or not to believe un progetto vagliato dall'agenzia nazionale giovani e finanziato nell'ambito del programma Erasmus più gioventù in azione i giovani partecipanti sono chiamati a condividere profondamente la vita della comunità locale osservandone le peculiarità ed esaminandone punti di forza e di debolezza al fine di recepire fattori di crescita individuale e sociale il programma formativo si articola in una sequenza di attività interattive ispirate a principi dell'educazione non formale esso si propone di realizzare un apprendimento pratico e condiviso diretto e alla riflessione e allo sviluppo di competenze sociali al fine di proporre soluzioni creative per lo sviluppo delle comunità rurali che culmineranno in uno spettacolo finale di teatro forum la performance teatrale organizzata dagli stessi stranieri e locali si svolgerà nella serata di domenica 28 giugno Desiree Pellincia 27enne presidentessa dell'associazione Connecta ha dichiarato lo scopo è praticare sviluppo rurale rappresentando i progetti e sogni dei giovani per il proprio territorio alimentando la discussione e la partecipazione della comunità locale attraverso la tecnica del teatro forum una forma artistica tutta da scoprire che mira a rendere attivo il pubblico e diventare spettatori per esplorare e mettere in scena analizzare e trasformare la realtà che essi stessi vivono Tony Viterale membro dell'associazione Connected ex sindaco di Rofrano ha dichiarato abbiamo riedattato l'adagio shakespeariano per porre al centro del dibattito politico e civile nazionale il tema delle aree interne e dello spopolamento sollecitando una mobilitazione che conti sul protagonismo dei giovani e su uno spirito open mind sono queste le leve rinunciabili per dare voce al nostro territorio in tutto il mondo ricerchiamo e sperimentiamo così antidoti contro la piaga dello spopolamento a partire dalle persone dalle singole coscienze e dalle loro azioni individuando e realizzando un modello di bioturismo suscettibile ad essere replicato fondato sulle relazioni umane e sulla valorizzazione del patrimonio immobiliare sottoutilizzato secondo la logica dell'albergo diffuso tutte le fasi del progetto possono essere seguite sulla pagina facebook ha preso il via oggi a padula per concludersi sabato 27 giugno la sesta edizione della festa della comunità organizzata dall'associazione oratorio San Giovanni Battista Onlus la manifestazione parte con la rappresentazione teatrale dei ragazzi dell'associazione dedicata alla vita di San Giovanni Battista dal titolo la vita di un profeta e si concluderà sabato 27 giugno con il percorso di arte e di gastronomia da oggi fino al 27 giugno sesta edizione della festa della comunità che ogni anno vede il gruppo dell'associazione oratorio San Giovanni Battista Onlus impegnate in una serie di attività finalizzate all'aggregazione e al divertimento uniti nella fede la manifestazione si svolge come ogni anno in uno dei rioni più caratteristici di padula dedicato proprio alla figura del santo di cui oggi ricorre le celebrazioni della natività a dare inizio alla festa della comunità edizione 2015 questa sera la santa messa presso la chiesa parrocchiale San Giovanni Battista con la funzione religiosa celebrata dal parroco Don Giuseppe Radesca a seguire una rappresentazione teatrale che apre la quattro giorni di appuntamenti con i ragazzi dell'oratorio che sono impegnati a proporre al pubblico uno spettacolo dedicato alla vita e alle opere dell'ultimo profeta precursore di Cristo dal titolo La vita di un profeta gli appuntamenti proseguono poi anche giovedì 25 con la santa messa delle 19 con le celebrazioni religiose che si susseguiranno anche per i giorni di venerdì e sabato sempre alle ore 19 per quanto riguarda invece gli appuntamenti ludico-ricreativi dopo la pausa di giovedì riprenderanno nelle serate di venerdì 26 e sabato 27 con a partire dalle ore 17 laboratori artistici dedicate a bambini e ragazzi che saranno poi oggetto di un concorso con le premiazioni in programma per sabato 27 le premiazioni saranno affidate al maestro Vincenzo Dacunzo artista di origini padulesi che ha realizzato tra le varie opere anche il dipinto Padula e Gerusalemme custodito nell'abside della chiesa della Santissima annunziata Padula sabato 27 la chiusura di questa sesta edizione della festa della comunità con l'associazione Oratorio San Giovanni Battista Onlus che ha organizzato una serata ricca di divertimento e di socializzazione oltre alla premiazione dei lavori realizzati dai bambini e dai ragazzi nell'ambito degli appuntamenti con i laboratori artistici svoltisi all'interno del salone dell'oratorio è in programma anche un percorso gastronomico lungo il rione arricchito da stand artistici gli ospiti potranno così degustare specialità culinarie tipiche e nel contempo ammirare mostre ed esposizioni allestite lungo il percorso con laboratori in pietra cera ceramiche e vetro la festa della comunità che ha già raggiunto con successo la sesta edizione rappresenta una manifestazione in cui fede tradizione e arte si fondono per dare vita a momenti di comunione di socialità e di serenità con l'unico filo conduttore dello stare insieme e ora una notizia di sport e solidarietà domenica scorsa la SD Sporting Pro Sala ha partecipato al triangolare dell'amicizia a Cosenza dedicato alla categoria esordienti l'obiettivo di questo triangolare è porre le basi di un confronto con le altre scuole calcio che hanno a cuore il percorso formativo dei piccoli ragazzi lo scorso 21 giugno presso l'impianto sportivo di Viale Magna Grecia a Cosenza si è svolto il triangolare dell'amicizia alla prima edizione di questo torneo di calcio di giovanili riservato alla categoria esordienti ha partecipato anche la SD Sporting Pro Sala che ha affrontato altre due squadre la SN Pietro Mancini e la SD Andreoli Sport e amicizia sono stati i protagonisti di questa giornata che ha visto le tre formazioni affrontarsi in tre belle partite molto sentite tutti animati da una sana competizione hanno interpretato correttamente il senso del gioco del calcio alla manifestazione e alla premiazione finale hanno presenziato molti genitori dei ragazzi presenti ad aggiudicarsi la prima edizione è stata la SD Andreoli secondo posto per la SD Sporting Pro Sala terzo per la SN Pietro Mancini grande soddisfazione espressa dalla dirigenza della compagine Salese che è pronta ad organizzare la seconda edizione della Torreo dell'amicizia nel Vallo di Diano l'obiettivo di questi triangolari è porre la base di un confronto con le altre scuole calcio che hanno a cuore il percorso formativo dei ragazzi la scuola calcio dichiarano dalla SD Sporting Pro Sala deve ispirarsi all'idea di calcio come sinonimo di umiltà correttezza e passione termina qui il nostro TG io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata Grazie a tutti Autore dei sovrapposti